Gli anni passano ma i 120 lavoratori della Rechi Multiservice partecipata dalla provincia di Salerno restano senza prospettive per il futuro, con stipendi arretrati e in gran parte nell'impossibilità di lavorare, bloccati all'interno della sede nella zona industriale del capoluogo. Dopo un incontro in provincia, conclusosi secondo i sindacati con nulla di fatto, in attesa di un piano di rientro, i lavoratori hanno dapprima occupato sala giunta di Palazzo Sant'Agostino prima di trasferirsi in azienda. Non uno sciopero, però, ma una sorta di presidio del posto di lavoro per i dipendenti di alcuni settori, come ad esempio le scuole, per il quale manca il materiale per la manutenzione degli istituti. Questo per lo stop da parte di alcuni fornitori. Fermo anche il settore strade, per il quale è scaduta la convenzione per la manutenzione della viabilità provinciale, mentre stanno lavorando regolarmente quelli della guardiania dei musei e delle verifiche degli impianti termici, nonostante alcune difficoltà. Il problema principale comunque resta quello del futuro, a causa dei problemi economici vissuti dalle province italiane, con i lavoratori che, tra l'altro, hanno accettato nel corso degli anni un taglio netto di 300 euro in busta paga per cercare di aiutare l'azienda, con il pericolo di non poter accedere alla cassa integrazione, nonostante per anni abbiano subito prelievi mensili per questo scopo. Il fatto di non avere più con puntualità la busta paga ogni mese è un problema serio sicuramente, ma a noi in questo momento non interessa più avere la busta paga, che è cosa comunque importante, ma è sapere qual è il futuro della Reiki Multiservice. Perché noi da circa nove mesi, puntualmente stiamo facendo degli incontri, fatti anche in prefettura, in presenza dei dirigenti della prefettura, e puntualmente abbiamo, da parte della provincia di Chiperesso, che rappresenta la provincia, delle rassicurazioni, che poi puntualmente queste rassicurazioni non vengono mantenute. Insomma diciamo che il lavoro per la Reiki Multiservice non mancherebbe. Ci sono, ci sono, le scuole è la prima cosa, le strade, il problema è sempre quello, senza salti non si va avanti, noi il problema nostro è l'esigenza di avere un contante che non abbiamo. Si è acuito anche con la riforma del Rio, con le province che restano nel limbo. Stiamo aspettando la risposta di oggi, oggi c'è un incontro da Roma, aspettiamo questa risposta di oggi, che cosa succede. Per ora che cosa farete? Resterete in occupazione, siete per presidare l'azienda? Finché non avremmo qualche risposta, siamo qua in Enzile.